Spaccio Occhiali Vision, regala! Se acquisti un occhiale con lenti antiriflesso, la seconda mutatura è in omaggio! A Mestre, Parco Commerciale Ocean, a fianco OBI! Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici! Anche a Lido di Iesolo, Porto Gruaro, Lido di Iesolo, Cittadella! Tornare lontano, la festa di Sardegna! La Lido di Iesolo, il venire il 4 settembre e poi da giovedì 8 a domenica 11 settembre potrai assaggiare le specialità a base di Sardegna, come Sardegna e Insaur, Sardegna e Sardegna e Sardegna, e molte altre pietanze a base di pesce. E giovedì 8 settembre sono su prenotazione la cena di gara, prenota il tuo posto su www.robeganesi.it Festa di Sardegna e di Rovegano, presso la tenso struttura in Via Verdi vicino alla chiesa. Pessimo modo di accogliere i turisti in questa splendida città, è tristezza.